Siamo rimasti noi a illuderci e cadiamo come petali. Piangere è già sentirsi invisibili ed ogni volta un po' più liberi da questa realtà. Teleradio Stereo, musica da sentire. Termina qui il collegamento audio con Teleradio Stereo. Teleradio Stereo Sarà un amore strano questo qua, che brucia fuori dentro qua e là. Uno sguardo solamente e la fiamma è accesa già, scappo o resto fruco attorno, chi lo sa. Com'è difficile stare al mondo, com'è difficile stare al mondo, com'è difficile stare al mondo. Se non possiamo sbagliare mai, mi piacerebbe scappare al mondo. Finisco poi per restare, io non me ne andrò. Tanto già lo so, che poi vinci sempre tu. Nel mio destino pace non c'è nè, nessuno al mondo è matta come te. Tu mi guardi sorridente e io tremo perché so. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, passiamo insieme una giornata ricca di sport, informazioni, spettacolo. Inizia la nostra programmazione. Restate con noi, sarà un giorno diverso. E' mezza notte o'clock. E' mezza notte o'clock. Ormai ci manca poco. Sta arrivando un country rock. Un country rock. Oh, oh, oh. E meno male che è una certa ora, poi ci sta toccare. Oh, oh. Mezza notte o'clock. Mezza notte o'clock. Ormai ci manca poco. E mai ci manca poco. Sta arrivando un mister doc. Sta arrivando un mister doc. Oh, oh, oh. E meno male che è una certa ora, poi ci sta toccare. E' la Rai, Rai, Rai Baby che ci fa disperare. E' la Rai che ci dà quello che le panna. E' la Rai, Rai Baby. Buongiorno a tutti. Ecco i titoli dei programmi di oggi su Rai 1. Alle 12.30 il telefilm Uno strano weekend della serie Gli occhi dei gatti. Alle 14.00 Buona fortuna estate. Alle 14.10 andrà in onda il film Il mago di Oz di Victor Fleming con Judy Garland. Alle 15.50 Zuppa e noccioline. Un viaggio attraverso l'America col cinema dei grandi comici. Alle 16.30 Big estate. Alle 17.30 andrà in onda per La biblioteca di Rai 1. la quarta ed ultima puntata di Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana. Alle 19.15 seguirà il serial Santa Barbara, 105.00 episodio. Ed infine in serata alle 20.30 Giochi senza frontiere. Vi lascio ora il 104.00 episodio del serial Santa Barbara. Buona giornata. Buona giornata. E tutti quelli che vogliono giocare a Paroliamo come fanno? Ah è vero, scrivete a Paroliamo, Viale Mazzini 14 0095 Roma Grazie a tutti 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 Abbiamo Grazie a tutti 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 Soft Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti E tutti Grazie a 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 tutti E poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buon pomeriggio Grazie a tutti 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 Creatura Grazie a tutti Grazie a tutti con tre Grazie a tutti 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 Grazie a tutti